Viene dal Senegal, è venuto apposta per la serata, pensate, dove è il pregio vero? Da Milano. Da Milano, vedi? E cosa fai da l'alimentare? E' un installatore di impietti alimentari dei casiclici, fantastico, vedi? Viene dal Senegal, vanno benissimo, guarda questo signore fortunato, guarda che meraviglia ragazzi, che fortuna, benissimo, benissimo, allora vediamo un po' chi sarà così romantico, la prima di Dante questa sera. Vediamo un attimo, signori preparateli, vediamo chi aprirà la pista, forza signori! Grazie Grazie per la visione! Grazie per la visione!